del Gerone F di Serie D è quella del ritorno in panchina di Rinaldo Cifaldi. L'allenatore terramano si è accomodato sulla panchina del San Nicolò, al posto del dimissionario Edmondo de Amicis. Martedì ha diretto il primo allenamento. L'obiettivo è risollevare le sorti di un San Nicolò ancorato alle zone basse della classifica. Per farlo cercherà di infondere all'ambiente serenità e coscienza dei propri mezzi. Cifaldi riparte da Macerata, cioè a 20 km di distanza dalla Fatal Recanati, tappa che costò l'affrettato esonero da allenatore del Teramo a fine febbraio 2011. Sulla strada del San Nicolò dunque la maceratese dal temibile attacco fanno paura Melchiorri, Negro e quel Mario Orta, ex con pochi risultati lo scorso anno. Per la piccola ma smaliziata Miternina arriva il match di prestigio al Delconero di Ancona. Angelone sarà privo dello squalificato Moauro e per motivi disciplinari di Onesti e Molinari. Ma dopo le ultime due vittorie avrà ben poco da perdere contro i Dorici che invece hanno perso terreno dal primo posto nelle ultime domeniche e non si possono permettere troppi passi falsi. Due dubbi per Gentilini, Borrelli e Ambrosini, entrambi acciaccati. In settimana testarato l'attaccante ex Sante GDS classe 92 Massimo Palma. Senza lo squalificato Ferrante trasferta ostica per la Renato Curiangolana sul campo della Iesina. Nerazzurri ancora tramortiti dalla cinquina casalinga di sei giorni fa ma cercano riscatto contro i Leoncelli di Amaolo in striscia aperta di tre sconfitte consecutive che ha reso negativa la classifica rispetto ad un organico di buonissima levatura. Squalificato Rossini. Unisernia col morale a mille, quattro vittorie nelle ultime cinque partite, sarà di scena al piccone di Celano con l'undici di Pierleoni e ancora la disperata ricerca della prima vittoria. Assenti sicuri, Leonardo per i molisani, Di Bacco e Granaiola per i Messicani.